L'esperienza del terzo a domicilio nasce dall'unione delle realtà sociali che erano già presenti nel territorio appunto del terzo municipio, che erano il centro sociale Astra, grande come una città che è un esperimento di partecipazione sul territorio che c'era il municipio, altri spazi sociali come il Branca Leone, la Puzzle e l'unione con l'associazione Nonna Roma che già si occupava di assistenza nel territorio principalmente del quinto municipio. Siamo partiti con l'idea di occuparci di fare la spesa per gli anziani o comunque i disabili e tutte le persone che non possono uscire di casa immunodepressi, immunocompromessi, persone sottoposte a isolamento domiciliare, covid positivi eccetera eccetera. Però via via oltre questo si sono cominciate ad offrire tante persone diverse dal territorio con diverse competenze e quindi attualmente oltre la spesa a domicilio forniamo anche un servizio di assistenza psicologica a distanza completamente gratuito e un servizio di orientamento per i cittadini rispetto a quelli che sono i servizi istituzionali nonché alla compilazione per le domande del bonus partita IVA, bonus babysitter, quindi diciamo uno sportello sia di consulenza legale sia di appunto orientamento ai servizi. e infine dalla settimana scorsa abbiamo cominciato anche la distribuzione proprio concreta dei pacchi alimentari e al momento assistiamo una quarantina di nuclei. Il ruolo delle reti territoriali in questo momento secondo me è importante, è importante in primo luogo perché appunto le reti intercettano tante situazioni dove l'istituzione non arriva soprattutto rispetto a quelle che poi sono le situazioni informali quindi accampamenti, baraccamenti, occupazioni, grossi agglomerati. Io penso che noi rispetto al terzo municipio siamo stati in grado di dare una risposta molto potente perché è molto sinergica, cioè ci siamo messi in contatto con il municipio e con altre realtà territoriali, protezione civile eccetera eccetera e questo ci ha permesso di essere molto attivi. Ecco questo è un po' secondo me il ruolo dei movimenti e siamo stati bravi per una volta a non perderci nelle analisi di fase diciamo così ma a dare subito una risposta e ad avere anche la prontezza di capire secondo me anche prima del lockdown perché la maggior parte degli spazi sociali hanno scelto liberamente di chiudere prima del lockdown. Anche la prontezza di capire che sebbene la nostra attitudine sia quella di quando ci sono delle zone rosse di infrangerle o quando ci sono dei divieti di infrangerli o di eccedere nella città eccetera eccetera. La nostra risposta invece è stata di avere quella maturità forse anche a partire dal protagonismo nelle notte che ci sono state nella sanità di capire che in quel momento gli spazi sociali nonostante non fosse obbligatorio era necessario che chiudessero. che chiudessero. Non è soltanto appunto come io mi confronto con l'istituzione ma io come quell'istituzione la trasformo. È in un momento come questo che ha disvelato la realtà e cioè che il disinvestimento nella sanità si è poi tradotto nel fatto che i posti in terapia intensiva sono insufficienti e le persone muoiono. Che la programmazione sui numeri di specializzazione dei laureati e laureate in medicina è insufficiente e che quindi non ci sono specialisti e la gente muore. Che i servizi sociali sono stati depauperati a loro volta e quindi adesso la gente muore di fame eccetera eccetera. Quindi la pandemia ha svelato poi un problema che è strutturale. Secondo me il ruolo dei movimenti è molto più, si è rivelato molto più utile in quelle lotte lì che ci sono state nel corso degli anni piuttosto che in tante altre. Perché poi una volta che finirà l'emergenza secondo me questa roba che magari era molto come dire era molto pane per i denti degli esperti o perché comunque un attimo ci si metteva di più è diventata invece tema di dibattito quotidiano per tutti. Quello che mi piace pensare è che tanti tante delle persone che sono assistite da noi sono persone anziane e mi piace pensare che avranno un'idea un po' diversa di quei giovani cerchiettoni che fanno casino le manifestazioni però che insomma ci accorgano con tutte le nostre sfaccettature perché poi l'unica cosa che interessa veramente è a un attivista quando sceglie di essere un attivista a meno che non lo faccia per ragioni non lo so di opportunità politica ma chi fa l'attivista perché sceglie la vita di movimento lo fa perché l'unico interesse è quello di migliorare l'esistente di cambiare le cose che non gli piacciono di non accettare più quello che non gli va bene e di mettersi insieme ad altre persone per cambiare quelle cose. E mi piace anche pensare che 250 persone che si vogliono rendere utili per aiutare gli altri sarebbero chiuse in casa a non fare assolutamente niente e invece noi stiamo catalizzando trovando un punto d'incontro fra tutte le necessità del quartiere sia di chi ha bisogno sia di chi ha voglia di dare in un modo in cui nessun altro l'avrebbe fatto.